Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuovissima rubrica di Tech che si chiama Game Time, finalmente una rubrica per parlarvi solo di videogiochi e console, così da lasciare insomma Tech News alla tecnologia in generale. Finalmente posso dare sfogo a questa mia passione per i videogiochi in un altro appuntamento qui su Tech, quindi non perdiamo tempo e partiamo subito con gli aggiornamenti più interessanti dal mondo delle console e dei videogiochi. Sicuramente l'annuncio più importante della settimana è stato quello di Nintendo Switch, la nuova console di Nintendo, infatti è stata ufficializzata e si basa intorno ad un'idea tutta nuova per il mondo delle console che si distanzia da ciò che invece stanno cercando di fare Microsoft e Sony. Vedremo se questa idea pagherà, ma l'idea di base è molto interessante perché si basa appunto su un concetto di continuità dell'azione, del gameplay che possa spostarsi dal salotto di casa, inteso come luogo in cui c'è la console fissa con tanto di joypad che si collega alla tv, ad un contesto più mobile tipo quello di una console di una certa dimensione insomma da 7,9 pollici con tanto di controller annessi che poi volendo possiamo staccare e trasformare quel dispositivo in un vero e proprio tablet. Quindi idea molto particolare, idea che potrebbe risultare vincente, come al solito Nintendo non ha paura di osare in queste decisioni, Nintendo Switch ufficiale è stato ufficializzato con un videotrailer brevissimo, non si sa praticamente nulla sulle caratteristiche tecniche, sulla data di rilascio, sul prezzo, però si conoscono già alcuni titoli che arriveranno per questa console, tra cui un nuovo capitolo di Mario che però non ha ancora un nome e un nuovo gioco dedicato a Zelda, insomma The Legend of Zelda. In questa settimana è poi arrivato anche il primo trailer ufficiale di Red Dead Redemption 2 che è stato ufficializzato da Rockstar Games in un trailer veramente brevissimo, dura meno di un minuto, si vede veramente poco del gioco, ci si riesce a fare un'idea più o meno di quella che sarà la grafica, probabilmente in game, del titolo e di quelle che saranno le ambientazioni, le storie, che non dovrebbero ovviamente differire molto dal contesto che avevamo già apprezzato in Red Dead Redemption 1 per PS3, insomma per Xbox 360, e praticamente questo nuovo titolo sarà probabilmente un prequel di Red Dead Redemption, perché il protagonista potrebbe essere ancora una volta John Marston e non il figlio, che invece è un'altra teoria, potrebbe essere il protagonista di questo Red Dead Redemption 2 se questo dovesse essere non un prequel ma un sequel. Quindi in ogni caso il gioco arriverà in autunno 2017, purtroppo c'è ancora tanto da attendere, ma siamo sicuri che Rockstar Games continuerà a pubblicare dei trailer per far crescere la colina in bocca a tutti i videogiocatori. Quella appena conclusa è stata anche la settimana di Battlefield 1, che è finalmente arrivato in commercio insieme anche qualche giorno prima al PlayStation VR. Per quanto riguarda Battlefield 1 la critica si è espressa veramente in modo super positivo, ci sono voti altissimi che sfiorano la perfezione, anzi c'è chi ha dato anche un 10 su 10, Electronic Arts e DICE sono stati in grado di creare un titolo che va a ributtare completamente, nel senso far ripartire la serie da un contesto che siamo abituati a conoscere come quello della Prima Guerra Mondiale, o ancora meglio se fosse stata la Seconda Guerra Mondiale, che è un contesto ancora più noto nel settore dei videogiochi, ma Prima Guerra Mondiale rivisitata con alcuni elementi un po' più futuristici, con le classiche modalità di gioco di Battlefield che non erano mai invece state portate in un contesto come quello della Prima Guerra Mondiale e su tutto campeggia ovviamente il motore grafico di DICE che è fantastico insomma, il Frostbite rende al meglio in questo titolo e insomma quindi critica che accoglie molto bene Battlefield 1 e critica che ha accolto positivamente anche il PlayStation VR che è ora disponibile nei negozi, il visore della realtà virtuale di Sony sta convincendo anche grazie insomma ad una disponibilità di titoli piuttosto buona e ad un disco demo che viene incluso in tutte le confezioni per far provare proprio l'esperienza VR al meglio. La software house Ready at Dawn che ha realizzato il noto The Order 1886, un titolo molto criticato in positivo e in negativo, criticato in positivo perché comunque ha offerto un'esperienza cinematografica, un'esperienza videoludica che non si era mai avuta prima anche con una scenografia veramente molto buona, degli ambienti suggestivi, ma ha criticato anche per un gameplay troppo lineare, per una storia troppo corta, insomma a quanto pare Ready at Dawn non ha gettato nella spazzatura questo titolo ma ci sta lavorando in vista di un seguito che potrebbe arrivare quindi tra il prossimo anno e anche magari qualcosina in più su PlayStation 4. Infine chiudiamo questa puntata di Game Time con una notizia che riguarda Pokémon GO, un successo nei primi mesi, adesso è un po' caduto nel dimenticatoio, Niantic prova ancora a sollevare le sorti di questo gioco ma forse non nel modo più ideale perché va ancora una volta a penalizzare chi per esigenza, per tempo o per altri motivi non può andare in giro camminando alla ricerca insomma di Pokémon o meglio forse chi va in giro con una bici potrebbe ancora farlo ma chi va in giro in auto a cacciare Pokémon, superata la velocità di circa 50 km all'ora il gioco in pratica non permetterà più di far comparire Pokémon, di catturarli, di andare dai Pokéstop e comprare, no, soltanto ottenere i bonus insomma che si possono ottenere e per questo insomma diventerà più difficile giocare a Pokémon GO per quelli che furbescamente approfittavano dell'auto per non fare qualche passo come ho fatto anch'io tra l'altro, ma ora non ci gioco più a Pokémon GO. Bene ragazzi quindi questa puntata di Game Time finisce qui, se vi è piaciuta vi invito a lasciare un like e a condividere il video con i vostri amici cosa ancora più importante però iscrivetevi al nostro canale così non vi perderete nuovi video come questo e seguiteci sui social network, i link a Facebook, Twitter, Instagram sono in descrizione io sono Andrea Cervone, vi ringrazio per aver seguito tutto il video e noi ci risentiamo alla prossima ciao a tutti da Andrea Cervone, per Tech Ciao a tutti